ciao ragazzi sono ottavio ho da poco compiuto 59 anni sono in una forma ottima ottima per l'età che ho questo che avete visto è una piccola dimostrazione di quello che io e il mio gruppo facciamo nonostante la mia età mediamente più avanzata rispetto ai miei compagni di giri vi assicuro che non è non è facile bisogna avere bisogna avere bisogna essere fisicamente non dotati perché non sono un miracolato però bisogna tener cura del del proprio corpo come come la propria bici anche noi stessi dobbiamo avere la quella manutenzione per proseguire in questo percorso ciao a tutti